Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai rivelato ai piccoli il mistero del regno. Per Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti 25 e 27. In quel tempo Gesù disse, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Gesù loda il Padre, lo riconosce Signore del cielo e della terra. La preghiera di lode è la preghiera del Figlio. Altre volte Gesù loda il Padre. Ricordiamo alcuni momenti. Prima di risuscitare Lazzaro, Gesù si rivolge al Padre, alza gli occhi verso il cielo e ringrazia il Padre che sempre lo ascolta. Anche durante il momento drammatico dell'ultima cena, prima di spezzare il pane, segno del suo corpo donato, Gesù ringrazia, benedice, da lode al Padre. La preghiera di lode è appunto la preghiera del Figlio che riconosce la grandezza del Padre. È bello dar lode a Dio. Non solo è cosa giusta, è doverosa, ma è anche fonte di bene, fonte di gioia. Allarga il cuore, dire benedetto Dio. La lode dunque è la preghiera tipica del Figlio, ma ci sono anche delle ragioni particolari che fanno sgorgare la lode. Caratteristica è la motivazione della lode del Vangelo di oggi. Non è un bel momento della vita di Gesù. Di per sé Gesù dovrebbe lamentarsi appena ha rivolto un duro rimprovero a Cafarnao e anche alle altre città del lago che non hanno creduto. Eppure Gesù di fronte al no di tanti riconosce il sì di altri e scorge anche qual è la ragione del sì, qual è la ragione dell'apertura e riconosce in questo il piano meraviglioso del Padre. Gesù loda il Padre perché riconosce che il piano di Dio, che il piano del Padre è bello, è grande. Qual è il piano di Dio? Il piano di Dio è questo, la conoscenza di Dio, cioè la vita da figli che vivono nell'unità e nell'amore potenti di Dio. La vita in cui i figli chiamano Dio Padre, questa ricchezza di vita, questa abbondanza di vita, non è conquista delle capacità umane, non è frutto prima di tutto della buona volontà, non è frutto della propria sapienza, degli sforzi di conoscenza, è un dono. Oggi ripetiamolo, la vita grande e bella è un dono. D'altra parte le realtà più vitali sono tutte un dono, la nostra vita è un dono, la capacità di amare è un dono, non ce lo diamo noi. Così anche il rapporto con Dio, certo questo non vuol dire elogiare la pigrizia, ma al contrario, riconoscere che non siamo noi che amiamo per primi, che ci diamo la vita per primi. Dio ci ha amato per primo, solo perché Lui ci ama possiamo noi amarlo, proprio perché siamo sicuri che Lui ci ama, ci ha chiamato alla vita. Questa priorità dell'amore di Dio ci apre all'amore, alla vita e noi conosciamo che Dio ci ama e ci vuole attraverso la persona di Gesù, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio perché gli uomini possono salvarsi. Chi vede Gesù vede il padre, Gesù è il dono che il padre ha fatto a ciascuno di noi per conoscerlo, per amarlo, per rispondere al dono del suo amore. Conoscere Gesù vuol dire conoscere il padre e non si può conoscere Dio se non si riconosce Gesù. Gesù è il figlio di Dio, ma è anche uomo, per questo è visibile, lo si può toccare. Noi possiamo ascoltare le sue parole attraverso la testimonianza degli apostoli, possiamo vedere le sue azioni, possiamo conoscerlo e conoscendo Lui allora possiamo conoscere Dio e scoprire che Lui ci ama. In fondo il motivo dell'esultanza di Gesù è la coscienza che Gesù ha di essere la porta attraverso la quale l'uomo può entrare nella comunione con Dio, può sperimentare l'amore di Dio. Deve essere stato esaltante per l'uomo Gesù vivere questa coscienza di essere la porta, la via che conduce alla verità, che conduce alla vita, che conduce ai pascoli freschi. Gesù esulta per la sua missione. Oggi dunque il Vangelo, mostrandoci l'esultanza di Gesù, ci invita alla contemplazione e la conversione che oggi la parola ci chiede è riconosci che la pienezza della tua vita, la gioia profonda della tua vita non è legata alle tue capacità, neanche ai tuoi sforzi, ma prima di tutto è legata alla capacità di accogliere il dono che è Gesù, che ti fa conoscere il Padre. Convertirsi vuol dire disporsi ad accogliere Gesù come dono, come dono che ti permette di entrare nella comunione col Padre. Ecco perché oggi la conversione si traduce in questo comando, diventare piccolo. Al grande maestro Nicodemo Gesù ha detto devi rinascere e un'altra volta Gesù ha messo davanti agli apostoli che discutevano su chi era il più grande e un piccolo, se non vi fate come questo bambino. E anche un'altra volta quando i discepoli siano arrabbiati perché le mamme portavano i bambini a Gesù, lasciate che i piccoli vengano a me, se non vi fate come uno di questi piccoli, non potete entrare nel regno, diventare bambini, diventare piccoli. Non vuol dire rinunciare al pensiero, alla ragione. Al contrario, Gesù ci ha dato, il Padre ci ha dato questa capacità, ma riconoscere che la ragione, le nostre capacità vanno impiegate per far spazio al dono che Dio vuol farci e che è Gesù stesso e conoscendo Gesù, solo riconoscendo che la vera sapienza è rivelazione, c'è un dono che Gesù ci fa. Allora noi conosceremo Dio e troveremo la salvezza. O Signore rendici piccoli, rendici disponibili ad accogliere il dono, aiutaci a godere della tua umanità per arrivare a Dio. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.